vieni ma che velocità 5 secondi no meno meno Sì, 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 sì. La peppa e la peppina! Sì, 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 sì. No, ma io ho tirato la panza. 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 Continuo a dire che è meglio del 90% dei coaster che c'è in Italia. E io spero che ci fosse qualcosa che questa puttana non abbia spusato. Dio porco!